Scuola dell'infanzia Luciano Ghelli qui a Prato Vecchio Stia, una scuola dell'infanzia Polo 06. È un impegno grandissimo sia finanziario, sono 2 milioni di euro il costo ma anche di tempo e di energie dal 2016 che abbiamo avviato questo percorso acquistando quest'area che era all'asta e poi il progetto, tutto quanto l'iter per arrivare a inaugurare e vedere veramente i sorrisi dei bambini. È un po' l'ultimo pezzo che si incastra con quanto fatto già dalle amministrazioni precedenti che ebbero questa lungimirante idea di avviare qui la cittadella scolastica concentrando tutte le scuole assieme. L'unica che mancava era appunto la scuola dell'infanzia e adesso invece abbiamo completato l'opera. Come si vede è un plesso innovativo sia dal punto di vista della struttura ma anche dal punto di vista dell'organizzazione perché qua è nato un Polo 06 qui che vede l'unione della scuola dell'infanzia con la scuola materna. Ci sono spazi condivisi fra la scuola primaria e la scuola dell'infanzia, insomma tante innovazioni che dovrebbero dare ai nostri bambini un luogo dove crescere in maniera sicura e consapevole. Condividiamo molto questo percorso volendo sempre più unire la parte dell'asilo nido con la parte di scuola dell'infanzia, quasi a diventare un tutto unico. Quello che abbiamo fatto noi quindi è creare una connessione fisica tra le due strutture, quindi all'interno della recinzione, quindi in piena sicurezza, esiste tutto un sentiero che parte dall'asilo nido e porta fino alla materna, un domani vorremmo anche coprirlo con una pensilina, che fa sì che in pratica queste due strutture siano sì separate ma in realtà unite e questo dà modo alle educatrici sia del nido che della scuola materna di collaborare e vivere sempre più le attività insieme. Un ambiente che è stato creato molto arioso ma anche e soprattutto tanto legno. Sì, questa è stata una scelta iniziale, fortemente voluta dall'amministrazione e dai miei compagni di amministrazione di allora. Noi siamo sede del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, la foresta per noi è l'uso del legno, è il nostro DNA e quindi volevamo anche che la nostra scuola rappresentasse la dimostrazione di come oggi si possa costruire con legno degli edifici bellissimi, molto funzionali, molto resistenti e davvero all'avanguardia. Uno dei vantaggi del costruire il legno è proprio lo stoccaggio dell'anitride carbonica rispetto agli altri materiali e quindi una struttura di questo genere riesce a stoccare una quantità di anitride carbonica enorme e anche qui, visto che parliamo di educazione dei bambini all'ambiente e visti i cambiamenti climatici che sono in atto credo che sia un bel elemento su cui puntare e su cui sensibilizzare le famiglie dei nostri bambini. Grazie